Oh, hai un assistente! Come Batman e Robin! Questa è la tua prima consegna. Noi contiamo su di te. C'è qualcosa che non va con la consegna. Ehi, Billy, penso che tu non abbia bisogno di quel mattone. Ehi, è tutto ok? Wow! Per caso, ci stai vedendo doppio! Il robot è impazzito! Dobbiamo fermarlo! Come ti senti, Billy? Bisogna ripulire la strada! Ma dove è andato il robot cattivo? Walter, pensa che sia Super Camion! C'è che non va a Walter! Dunque, è stato il robot! Che c'è che non va? Super Camion! Carrie pensava che fossi tu alla macchina dei gelati! Hai un'idea di come fermarlo? Ok! Hai tempo di darti una sistemata! Una pistola riparatrice! Ma è fantastico! Bentornato! Puoi aiutarci con questa consegna? No! 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 È l'assistente di Super Camion! È dispiaciuto per quanto accaduto prima! Ora tutto è al suo posto! Il tuo assistente sta diventando un eroe! Ehi, una gara di demolizione! Che divertente! Voi ragazzi siete dei campioni a buttare giù i muri! Carla, a qualcuno serve il tuo aiuto! Dovresti ritornare a casa subito! Sono Carrie e Ben alla fattoria! Hanno un aspetto veramente nervoso! Ma che cos'è quello? Ai ragazzi serve il tuo aiuto! È meglio fare in fretta! Super Camion è qui per aiutarvi ragazzi! Non c'è bisogno di andare in panico! E ora dov'è il T-Rex? È andato dentro il labirinto! Uh! Eccolo lì! Super Camion, che cosa ha intenzione di fare? Ha intenzione di trasformarti? Grandioso! Ce l'hai fatta Super Camion! E adesso mostriamo al T-Rex chi è il capo! Ehi! Ehi! ! Camion a molle! Che meravigliosa idea! Vai e prendilo! Super camion a molle! Ma, ma, dove è andato? Fai attenzione! È stato piuttosto spaventoso! Ben, Carrie, il super camion a molle sta tentando di dirvi che il T-Rex era solo un giocatto! La buona notizia è che nel bel mezzo del labirinto, la cattiva notizia è che si sta velocizzando ed ha un aspetto pazzo! Oh, oh! Che c'è che non va a Carrie? Oh, no! Un piccolo si è addormentato nel giardino! Ehi, attenti! È proprio vicino al piccolo! Oh! Ce l'hai fatta! Super camion a molle! Grazie per aver salvato la giornata, Super camion! Car City è lieta di premiarti con una medaglia per tutto quello che hai fatto! E Carrie ha preparato un pranzo picnic che potrai gustare senza nessuna interruzione di dinosauro! Goditi il tuo pranzo! Ciao, Jerry! Stai cercando di fare un nuovo record di velocità? Ciao, Edna! Sembra che tu stia per fare degli scavi importanti! È per un'occasione speciale! Oh, capisco! Il parco non è ancora pronto! Allora è decisamente meglio che tu continui! Oh, oh! C'è qualcosa che non va! Gli scavi di Edna stanno facendo crollare il soffitto del tunnel! Jerry, dovresti fermare! Edna, smetti di scavare! Il tunnel sta crollando e Jerry c'è dentro! Oh, no! Oh, no! Carl, Jerry è in pericolo! Oh, no! Supertruck! Il tunnel è bloccato! Quale trasformazione sceglierai per entrarvi in Super Camion? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Un bulldozer! Ma è un'idea eccellente! Jerry, il super camion è qui per aiutarti! Riesci a sentire qualcosa? Le rocce cadendo hanno rotto i tubi! Super camion, devi agire molto in fretta! Coraggio super camion, sii veloce! Forza, andiamo! Ma che sta succedendo? No, vabbè per te! Fai molta attenzione! Oh! Oh! Oh, oh! Ma ne vieni da tu! Oh no, l'acqua sta venendo verso di te! Devi usare un accessorio speciale, l'ST3000! Un congelatore, ma è fantastico! Ben fatto, super camion! Sei riuscito a congelare l'acqua! Ciao ragazzi! Adesso divertitevi pure sul ghiaccio! Ci vediamo più tardi! Edna! Edna! Edna, togliti le cuffie! C'è del fuoco! Tutto intorno a te! Il fuoco si sta espandendo troppo in fretta! Hai bisogno di aiuto! Oh! Come on! Carl! C'è del fuoco nel parco! Alla città servono tutte le tue capacità! Supertruck! 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 Edna deve aver urtato un tubo! Super camion! In cosa ti trasformerai per avere l'aveglio su questo fuoco? Supertruck! E' un buio di potenti! Seguro il peccato! Sì, e' diversifii! Supertruck! Supertruck! Un camion dei pompieri! Ma certo! Un ottimo lavoro! Ma c'è ancora tantissimo da fare! C'è qualcosa alla tua sinistra! Ora alla tua destra! Edna, il super camion è qui per aiutarci! Super camion, il fuoco si è espanso tutto intorno al parco! Vuoi usare l'ST3000? Oh cielo, non vedo l'ora di vederlo in azione questa volta! Ah, bene bu! Wow! Wow, sta funzionando perfettamente! E sta anche domando i fuochi! Oh no! Carl, devi fermare il fuoco prima che vada fin laggiù! Ci è mancato davvero un pelo! Wow! E' stato veramente fantastico, Marley! Ok, penso che abbiamo avuto abbastanza fuoco per oggi! Vuoi che Marley ti salti sopra? Ok, divertitevi ragazzi! Oh, c'è parte din door! Oh, l'altraoshanno! Ehi! Grazie a tutti.